Apri là, apri là, apri là, apri là, apri là, apri là, apri là. Oggi dalla nostra mail room un bel sollecito di pagamento. Raro, risale al febbraio scorso, chi offre un bicchierino di room, un bicchierino di room, un bicchierino di room per la contabilità fornitori, bene, chi offre due bicchierini, bene, bene per la direzione amministrativa, due bicchierini di room, due bicchierini di room. Apri là, apri là, apri là, continuiamo, abbiamo una fantastica lettera di reclamo. Una lettera d'assunzione. Se non usi DocFlow on Air, non ti resta che ridere.